Guarda, vai con me Bergamo! Johnny Bambini! Vamos, vamos, vamos! Voglio un grande applauso, classe! Johnny Vaporella, amola! 1982! Sono fuori dal tunnel! Allora, classe 82 da Bergamo! Vamos! Allora, chi è il portavoce di voi? Io! Samo! Manzoni! Allora, domanda semplice! Sì? Allora, se io ti dico 1982, te rispondimi con tre cose, tre frasi, vai! Mondiali! Campioni del mondo! Ok, poi? Juventus campione d'Italia! Che schifo! Merda! Merda! E poi siamo nati tutti noi! E? Siamo nati tutti noi! E siete nati tutti voi che è la cosa più bella! Esatto! Ok, allora Samo! Te sei il portavoce e guardiamo se sei bravo a rispondermi a queste semplici domande! Se in una stalla ci sono dieci mucche, scappano tutte tranne nove! Quante mucche rimangono? Acala, 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 acala! Dai, ci facciamo! Bravo il ragazzo! Nove mucche rimangono! Ma lui è il mio grillo parlante! Siamo al bingo! Ha fatto le scuole alte, era al quarto piano! Ha fatto solo la prima, però era al quarto piano! Ok, questo è per le donne! Bravo, perché la foglia non cade dall'albero! Però, suca! In una strada, anzi, in mezzo alla strada c'è un cane con un semaforo sulla testa! Ragazze, cosa fa il cane in mezzo alla strada? Scopa! No? Palestrisce? No? Dai, è facile! Un cane in mezzo alla strada con un semaforo sulla testa! Ragazze, cosa vi fa il cane in mezzo alla strada? Dai, non capite! Insegnatecelo! È un incrocio! Bravo! Incrociamoci! Bravo, un incrocio! Eh, ha fatto le scuole alte anche lui! Non è incrocio! La zona destra è molto alta! Eh, stasera è quello che si incrocia lui, eh! Eh, lo so, lo so! Ragazzi, pronti a cantare adesso? Eh, dai, dai, dai! Biondo, sei pronto? Sì, sì, sì! Pronto! Biondo! Bambolino da inizio lì dò! Sì, sì! Riccioli d'oro lo chiamo! Vai, vai! Vai, tu lo chiamo! Stessa, sto! Stesso posto, stesso bar! Stessa gente che viene dentro, consuma, poi va! Non lo so! Che faccio qui! C'è su! Esco un po'! E vedo i pari dell'auto che mi guardano e sembrano chiedermi chi cerchiamo noi! Gli anni del Rodan de Real, gli anni del Fidesz e di Ralfalp, gli anni delle immense compagnie, gli anni il motorino sempre in trie, gli anni di che meglio erano i film, gli anni delle Rogers come i jeans, gli anni di qualsiasi cosa fai, gli anni del tranquillo siamo qui noi! Siamo qui noi! Siamo qui noi! Siamo qui noi! Stessa storia, stesso posto, stesso bar! Stessa storia, stesso bar! Sta quasi chiudendo, poi me ne andrò a casa mia, solo lei, davanti a me! Cazzo vuoi! Cazzo vuoi! Cazzo vuoi! Cazzo vuoi! Il tempo passa per tutti, lo sai, e solo un verso nessuno fa, nessuno vuoi! Gli anni del Fidesz e di Ralfalp, gli anni del Fidesz e di Ralfalp, gli anni delle immense compagnie, gli anni del Fidesz e di Ralfalp, gli anni del tranquillo siamo qui noi! Siamo qui noi! Siamo qui noi! Saluto a tutti! Tutti sempre l'ultimo saluto! Vai Michael! E un primo applauso! Viva la classe 82 Bergamo! Integ Calendar Viva la classe 83 Bergamo! Viva la classe 82 Bergamo!